Tra gli effetti della guerra in Ucraina c'è anche l'aumento alle stelle dei combustibili alternativi al gas, primo tra tutti il pellet. Quanto costa in questo momento? A questo momento ci stiamo avvicinando ai 10 euro, in alcune occasioni l'abbiamo già superato. Questo significa che il prezzo del pellet in un periodo di acquisti prestagionali, come solitamente avviene appunto a metà fine estate, è praticamente triplicato da quello che era successo nel 2021, da quello che si vendeva durante le offerte prestagionali del 2021. Diventa introvabile sia perché appunto le importazioni di materia prima per produrlo si sono diciamo così ridotte molto a differenza degli altri anni e quello che si trova appunto lo troviamo a dei costi sicuramente esagerati a differenza di quella che era la normalità. Di qui l'allarme che lanciate voi come gruppo dei tecnoedili? Sì, noi lanciamo un allarme importante perché si sente parlare di speculazione soprattutto su queste fonti diciamo alternative. Noi questa speculazione la stiamo subendo perché naturalmente prima di tutti siamo noi che andiamo a pagare il pellet, la legna da ardere molto più cara di quella che la pagavamo. La maggior parte delle volte quest'anno succede che dobbiamo anche pagarla prima che parta dagli stabilimenti, ma naturalmente non possiamo pretendere che i nostri clienti tutti siano disponibili anche a pagarcela subito solamente al momento dell'ordine. Ma dobbiamo cercare di essere elastici nell'andargli in conto, nell'andargli un servizio e nel fargli capire che tante volte bisogna anche affidarsi a noi piuttosto che correre dietro ad un prezzo in questo momento irrisorio ma che potrebbe anche incorrere in quella che potrebbe essere una truffa.